buongiorno e benvenuti sul canale chetogenica in fantasia oggi prepareremo una gustosissima ricetta salata un polpettone con cuore a sorpresa veramente veramente molto buono ingredienti 400 grammi di carne macinata un uovo 40 grammi di grana grattugiato 50 grammi di pangrattato chetogenico se volete farlo da voi potete farlo con avanzi di pane chetogenico comprarlo delle varie marche oppure usare farina di mandorle o farina di semi di lino sale e spezie per il ripieno io ho usato 250 grammi di broccoli o altra verdura 100 grammi di porchetta rosso oppure altro affettato e 4 uova sode mescolate tutti gli ingredienti aggiungete un po alla volta e mescolate con le mani stendete l'impasto su un foglio di carta da forno e ricoprite con un altro foglio poi col mattarello dategli una forma il più possibile lettangolare aggiustate un po con le mani e mettete il ripieno che avete scelto arrotolate delicatamente con la carta da forno e formate una caramella poi mettete in una teglia e cocete a 200 gradi per 45 minuti guardate che bel sughetto si è formato ora lasciate intiepidire e tagliate le vostre fette mettetele in un piatto di portata col contorno a vostro piacimento e aggiungete il sughetto che si è formato servite e godete anche con gli occhi i miei hanno veramente apprezzato ce lo siamo divorato completamente spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta e quindi mettete la vostra preferenza iscrivendovi al canale al gruppo facebook e come sempre vi auguro buon appetito grazie 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 grazie